andiamo dunque si ricomincia con andiamo e si riparte da bologna da piazza maggiore dove tutto era cominciato ok prima di tornare a visitare musei luoghi mostre così diamo un'occhiata a quello che sta succedendo in giro dopo la riapertura iscriviti al canale Molto bene L'Italia riparte Ripartiamo anche noi Andiamo?